Opportunità per noi, Miretti per Vlaovic, può anche calciare, Vlaovic! Dusan Vlaovic al primo, pallone buono, la mette dentro con un gol, fantastico! 1-0 al quarto d'ora, ha segnato DV9! Sbaglia in uscita Ferrari, recuperiamo il pallone, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare. Miretti trova al limite dell'area Dusan, che prende la mira e non lascia scampo a consigli. È un gol bellissimo! 1-0. Ancora l'Oriente, l'Oriente con il destro, tiro insidioso, Scesni si allunga. Fischia Piccinini, parte Vlaovic! Dusan Vlaovic, un capolavoro nella notte dell'Allianz Stadium, una meraviglia! Un gol più bello dell'altro, Dusan Vlaovic, 2-0! Ha fatto un grandissimo gol. esecuzione stupenda di Dusan Vlaovic, stupenda! Non la può consigli! 2-0! Barriera folta, ancora una volta per il Sassuolo. Va ancora Vlaovic! In due tempi consigli. Locatelli. Ancora Vlaovic, si gira poi, Rabiot! Siluro con il sinistro, la inchioda a terra consigli. Ora gioca molto bene la Juve. Ancora l'Oriente si accentra, è quasi in zona tiro, poi trova il varco giusto per Berardi, che calcia fortissimo. Attenzione però a Berardi che subentra, non riesce a fermarlo Danilo. Ancora Berardi, arriva così in zona tiro. Berardi calcia forte! Una grande parata di Scesni! Di burro istinto! E poi si prende i complimenti di Locatelli. Grande parata di Tec! Cerca la giocata a Boloca. Milik prova a portargli via il pallone, che poi passa. Ancora Chiesa, Chiesa, Chiesa! Federico Chiesa torna al gol! Torna a esultare! 3-0 per la Juventus! Da prendersi questo pallone. Bravissimo Milik su Boloca. Bravo Chiesa a dar fastidio a tre soldi. Bravissimo Locatelli a servire! Con i tempi giusti Chiesa! Che supera così consigli! Eccoli qui i tre fischi che aspettavamo! Tre gol per tre punti. La Juventus vince 3-0 contro il Sassuolo e apre nel migliore dei modi possibile il suo girone di ritorno.